Per me l'Europa è una comunità di culture, di civiltà, che comincia nelle isole europee. Vengo dalla Sicilia e la Sicilia è una di queste grandi isole europee e poi si propaga in tutta Europa, come la sua storia, la storia della Sicilia dimostra. Una storia millenaria dove i popoli europei, dai normanni ai spagnoli, ai francesi, si sono incontrati e hanno vissuto in pace in un clima di tolleranza e di straordinaria sedimentazione culturale. La Sicilia e le isole europee guardano all'Europa, ad ogni piccolo centro, ad ogni grande città, alle grandi università, ai centri di cultura. Questa Europa che è coesa, che può accogliere, un'Europa che può preparare i nostri figli alla competizione mondiale. Manfred Weber, il nostro Spitzer Candidate, sarà il testimone di questa Europa che vogliamo costruire, da popolari, da uomini che credono nella persona, come Luigi Sturzo, grande siciliano, ci ha insegnato. Grazie. Grazie. Grazie.